e ciao ragazzi di youtube sono darios95 e oggi siamo qui a pokemon come vedete riconoscete pokemon rubino e sono qui per farvi vedere una cosa aspettate che abbasso un po il volume perché sennò non dovete non mi sentite allora intanto porto della lotta prima che me lo diciate ovvio questo è il porto selcepoli selcepoli come preferite io l'ho cambiato in porto della lotta e anche il tempo che ogni tanto nevica casca qualche fioc ovviamente l'ho modificato con il programma advance map già ho fatto dei video molto tempo fa e oggi sono qui questa è la mia squadra cadabra salamence grudon vigoro lassiche e swampert per farvi vedere che qui abbiamo una buona compagnia ovviamente li riconoscete sono i super 4 della regione e adesso li affronterò qui noterete della differenza dei loro primi pokemon e i livelli ovviamente mi sono divertito a modificarlo per rendere la sfida più piacevo ovviamente andiamo in fila eccoci qua ecco il primo è altario a livello 60 eccoci qua eccoci qua ok adesso ci dovrebbe pensare divinazione con il platanica chi è di 3000 ok eccoci qua no dai ok ok ecco ecco ok ecco ah mi ok ecco ma bene sono qui e 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 ecco ok primo è stato sconfitto ora io potrei andare liberamente al centro pokemon però andrò direttamente avanti ecco il primo pokemon è guardevoi che ovviamente se vi ricordate dovrebbe avere un dusklox ecco 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 ovviamente io per non per non allungare troppo il video uso sempre lo stesso pokemon con sgranocchio sconfigo velocemente ecco ecco ecco, l'elcio primo Pokémon è Casper ovviamente se avrete notato ho alzato piano piano il loro livello man mano che aumentavano i super 4 un po' di più Grazie a tutti. 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 Adesso ho messo solamente i Super 4, il campione non avevo voglia, mi bastava un olore. Bene ragazzi, questo video è finito. Spero che nella sua semplice. Spero che nella sua semplicità vi sia piaciuta. Stima totale. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.